Buongiorno. Oggi, 27 dicembre 2020, si sono svegliati tutti, si sono accorti che c'è stata una sentenza a Roma. Non ho la più palida idea se è stata divulgata attraverso la RAI o attraverso altri organi ufficiali di informazione e non ho la più palida idea di come sia stata divulgata. Ma noi qua a Radio Londra, la radio dei figli dei minatori, dell'aristocrazia della classe operaia, vogliamo portare un contributo aggiuntivo che sia utile sia per la nostra autotutela, sia per l'autotutela degli iscritti e di tutti i cittadini italiani. A fronte della prima sentenza che era già stata emessa durante l'estate, mi sembra settembre, ora poi lo leggeremo, il sindacato unitario o personale in uniforme, a fronte già appunto di quella sentenza del Tribunale di Frosinone che diceva sono illegittimi questi di PCM, emanava un volantino a tutela degli operatori di polizia e dei militari che ora vi leggo perché queste informazioni devono arrivare a tutta la cittadinanza. Naturalmente metterò i link di quanto sto leggendo e sostenendo sotto il video. Volantino a tutela degli operatori di polizia e dei militari, da redazione del sindacato unitario o personale in uniforme. Gli operatori di polizia e i militari debbono conoscere le sottonotate leggi e decreti al fine di evitare di violare l'articolo 28 della Costituzione. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. 1. Dalla Gazzetta Ufficiale Legge 22 maggio 1975, numero 152, articolo 5. E' vietato prendere parte o a pubbliche manifestazioni svolgenti in luogo pubblico o aperto al pubblico facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. 2. Decreto Legge 155 del 2005 che proibisce di circolare in luoghi pubblici con il viso coperto Le misure antiterrorismo del citato Decreto Legge 155 del 2005 rendono più severa la legge numero 152 del 1975 che proibisce di circolare in luoghi pubblici con il viso coperto. La pena passa da sei mesi a un anno di reclusione a due anni di reclusione e l'ammenda da mille a duemila euro. 3. Articolo 16 della Costituzione della Repubblica Italiana Ogni cittadino può circolare o soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza leggi non di PCM Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi salvo gli obblighi di legge Legge non di PCM Si fa presente che i di PCM emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono atti amministrativi provvisori che non hanno forza di legge e devono essere convertiti in legge entro 60 giorni e che tuttavia non possono annullare o sostituire le leggi in vigore opporsi contro la Costituzione della Repubblica Italiana e contro i trattati internazionali Sto leggendo dal sindacato del personale in uniforme Per favore, non è una mia opinione Difatti, i di PCM si pongono in posizione gerarchica di livello inferiore rispetto alla Costituzione e alle leggi come previsto dalla gerarchia delle fonti di diritto La gerarchia delle fonti nel diritto sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore Si fa notare inoltre che i DPCM in materia di sanità possono essere applicati solo in caso di pandemia evento che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ancora non ha dichiarato con atto ufficiale Lo sta dicendo il sindacato del personale in uniforme, non io Secondo le citate leggi gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza nell'atto di emettere un verbale nei confronti dei cittadini sprovvisti di mascherina commettono i seguenti reati 1. Istigazione a commettere delitti articolo 414 del codice di procedura penale Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno più reati e punito con il solo fatto dell'istigazione fino a un anno di carcere oppure con la multa di 206.000 euro se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni Stiano attenti i cittadini che si permettono di venirmi a dire di mettere la mascherina all'aperto Non fatemi sapere il vostro nome o cognome Vi denuncio ai sensi di questo articolo Ma andiamo avanti 2. Violenza privata articolo 610 del codice di procedura penale Chiunque con violenza o minaccia costringe altri a fare tollerare o domettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni 3. Procurato allarme articolo 658 4. Abuso di autorità articolo 608 del codice di procedura penale 5. Attentato ai diritti politici del cittadino articolo 294 del codice di procedura penale Cari operatori di polizia Così è scritto, così leggo Considerato quanto sopra visto l'articolo 28 della Costituzione della Repubblica Italiana con la vostra azione di verbalizzare e contestare il mancato uso della mascherina voi potreste essere perseguiti individualmente sia penalmente e civilmente e condannati a risarcimento dei danni fino a 15.000 euro più spese legali per il processo A conferma di quanto detto esistono già sentenze di giudici di pace che hanno annullato i vostri verbali Sentenza del 29 luglio 2020 del giudice di pace di Frosinone Ripeto, questa roba che ho letto tratta dal sito del sindacato unitario del personale in uniforme verrà messa in link sotto questo video Cittadine e cittadine italiane Ognuno di noi, tutti quanti singolarmente abbiamo la responsabilità di far valere le leggi esistenti la responsabilità di salvare questa democrazia aspetta a tutti non solo a me che discendo da un deportato Ora girando sul web me metterò i link ho scoperto che stanno già tentando di delegittimare la sentenza di Roma quando ci sono state quelle precedenti c'è stata quella che ho citato adesso di Frosinone e questa sentenza di Frosinone ha costretto il sindacato del personale in uniforme ad avvisare tutto il personale e è ovvio perché noi cittadini abbiamo tutto il diritto di pretendere che il personale in uniforme fornisca nome cognome matricola non lo stanno facendo? stanno violando la legge prendete nota della targa della loro macchina non vi fanno prendere nota della targa della loro macchina don't worry non preoccupatevi annotatevi l'ora il luogo e il giorno dove vi hanno fatto una legge illegittima multa una illegittima qualunque cosa voi riteniate sia ingiusto che vi sia stato fatto sappiate che sono sorella di un ex comandante dei vigili urbani in casa ce l'ho avuto uno con la divisa d'accordo so come ragionano e so per certo che quando sono in servizio tutto è registrato è registrato l'ora in cui iniziano il servizio cosa fanno in servizio e quando finisce quindi non c'è scampo cari signori con la divisa è inutile che nascondete nomi, cognomi e la vostra numero di matricola qualunque cittadino avrà diritto agli atti per accertare chi ha commesso il reato infine ci sono questi personaggi che gestiscono siti contro le bufale non possono chiamare bufale queste sentenze possono cercare di creare confusione appellandosi a ipotetici consulenti legali con l'arroganza di definire giusta la loro chiave di lettura no cari signori nessun sito antibufale ha il diritto di stabilire qual è la giusta chiave di lettura la stabiliranno i giudici in tribunale la giusta chiave di lettura di ogni singolo reato commesso da agenti delle forze dell'ordine nell'espletamento del loro servizio nota margine uno di questi siti barda un po' è di mentana ma mentana ha vinto il guinzaglio d'oro ha vinto il guinzaglio d'oro per il giornalista più servo che esiste in Italia a voi riflettere a questo punto qui Radio Lombra Aldo dice 26 per 1 a voi riflettere